È un passaggio tecnico di fatto pura burocrazia che però era rimasto bloccato addirittura dal 2011 come svelano le carte pubblicate all'albo pretorio del comune di Casal Maggiore. Un accordo tra il comune stesso e la canottiere Ridanea che in quel periodo, dal 2009 per la precisione, aveva iniziato un processo di espansione che in pochi mesi aveva portato le strutture, soprattutto sportive, alla forma che tuttora conosciamo. Dietro quella concessione vi era però stato un accordo col comune riguardante aree da permutare. Di fatto Ridanea cede al comune la salita all'argine che attualmente è ancora di proprietà della canottieri, così come il tratto di ciclabile che affianca il campo da calcio oppure in questo caso passato nelle proprietà comunali, mentre il comune in cambio cede alle ridane alla vecchia salita all'argine, quella zigzaghe per intenderci, dove oggi insistono anche i campi sportivi. Una procedura che era ferma come detto al 2011 per alcuni dettagli, oggi finalmente risolti, ma che in passato erano venuti meno e dunque inficiavano la buona riuscita della permuta. Un passaggio che può sembrare di poco conto, ma che al contempo è emblematico perché lascia intendere quanto spesso e quanto la burocrazia e le lungaggini portino a impiegare anni e nel caso specifico più di un decennio per perfezionare un percorso quasi naturale e peraltro previsto all'interno di un accordo, in questo caso tra pubblico e privato. Passato in giunta, lo scorso giovedì l'accordo non si era perfezionato in passato, per alcuni inghippi come detto di tipo tecnico, mancava ad esempio un mappale dei tre previsti nella programmazione di acquisizione al demagno comunale, oltre ad altri vizi di forma, piccoli in realtà ma decisivi nel bloccale liter, che finalmente ora può dirsi giunto a compimento.